Albano spiazza. Io e Romina Power? Siamo come fratelli, la confessione. La coppia formata da Albano e Romina Power ha fatto sognare milioni di fan di tutto il mondo e di tutte le generazioni. I due sono stati insieme per tantissimo tempo ma poi, complici alcuni dolori vissuti, la loro storia è giunta al capolinea. Nonostante sia passato molto tempo da quando Romina Power e Albano si sono separati c'è ancora chi sogna un ritorno di fiamma. Soprattutto da quando i due hanno ripreso a cantare insieme, nei tour e nei programmi televisivi, accendendo nostalgia e speranza nei telespettatori. Ma su questo Albano, legato da anni a Loredana Lecciso, sembra irremovibile. Il cantante, infatti, intervistato dal Quotidiano Libero, parlando di Romina Power chiarisce, io e lei siamo fratello e sorella. Tra noi c'è solo lavoro. Basta guerre. Romina Power verso una decisione importante, svolta nella sua carriera. Romina Power ha il cinema nel sangue. La cantante è la figlia dell'attore di Hollywood Tyron Power, scomparso nel 1958, e dell'attrice Linda Christian. Romina ha debuttato al cinema all'età di 13 anni. Girò 14 film in 4 anni. Dopo l'incontro con Albano girò diversi musicarelli. Un genere cinematografico caratterizzato dal mettere in scena un cantante di fama e il suo nuovo album. Secondo un'indiscrezione lanciata dal settimanale Vero, la Power potrebbe tornare a recitare presto. Indiscrezioni raccolte dalla rivista Avviale Mazzini, vorrebbero Romina Power, tra le protagoniste di una nuova fiction della Rai, le cui riprese dovrebbero iniziare all'inizio del 2022. La trattativa per riportare Romina Power sul piccolo schermo in veste di attrice sarebbe a buon punto. Se l'indiscrezione venisse confermata, che ruolo interpreterebbe Romina Power nella fiction della Rai? La cantante, che è un'artista a tutto tondo, potrebbe dare una svolta alla sua carriera. Romina Power, tornerebbe al suo primo amore, la recitazione. Potrebbe seguire le orme della collega Loretta Goggi che, grazie alle fiction, sta vivendo una seconda giovinezza professionale. La carriera di Romina Power, è stata costellata da grandi successi nella musica sia come solista sia in coppia con Albano, che ha fatto una confessione spiazzante sull'ex moglie. Dopo il divorzio Romina e Albano, per diverso tempo, hanno interrotto anche il loro sodalizio artistico, fino a qualche anno fa quando sono tornati ad esibirsi insieme per la gioia dei milioni di fan sparsi in tutto il mondo.